ottimo, allora quindi quello che andremo a vedere oggi è la soluzione di Autodesk Fusion 360, nello specifico quelle che vengono chiamate le extension di Fusion 360 andremo a vedere cosa sono queste estensioni che si possono acquistare in maniera anche molto flessibile e danno sia una completezza al prodotto nei vari ambienti in cui lavora ma anche ci danno la possibilità di implementare anche solo momentaneamente solo il settore o la funzione che ci serve per svolgere una determinata attività allora io intanto mi presento, sono Daniele Vigolo, adesso non so se qualcuno di voi mi conosce, sono il CAM Application Engineer all'interno di NKE sono uno dei tecnici appunto che si occupa del settore CAM, quindi Manufacturing la mia formazione deriva sia dal lavoro sulle macchine, una formazione abbastanza tradizionale dopo sono passato alla programmazione CNC per approdare poi la programmazione CAM, quindi sono stato utilizzatore di un software Autodesk per diversi anni cioè PowerMill e anche di Partmaker che è sempre un prodotto Autodesk dedicato al mondo della fontina mobile, quindi torni da produzione un mondo un mondo un po' particolare che però mi ha permesso anche questo di accedere e rimanere all'interno del mondo Autodesk adesso ormai è da qualche anno che ho fatto parte della squadra prima di Autodesk e ora nella squadra di NKE che è uno dei rivenditori più grandi se non il più grande in Italia appunto di prodotti Autodesk Bene, il prodotto che andiamo ad analizzare oggi è Fusion 360, difatti la mia intenzione è quella di fare una breve introduzione al prodotto per capire di cosa si tratta per poi andare a spiegare e vedere anche qualche esempio pratico appunto dell'utilizzo di queste estensioni che ci permettono di lavorare in una certa maniera Allora, intanto il Fusion 360 cos'è? Uno strumento 3D CAD CAM Cloud Based, quindi molte delle funzionalità di Fusion 360 sono basate sul cloud sia a livello di calcolo, questo è il motivo per cui è molto performante anche nella gestione di file molto grandi inoltre anche a livello di archiviazione possiamo sfruttare tutti i vantaggi del cloud sia per l'archiviazione dei nostri progetti che andremo a salvare appunto in determinati spazi cloud e che potremo condividere con chi decidiamo noi affidandoci ovviamente alla sicurezza, a tutta la sicurezza dei server Autodesk ma anche per la gestione degli strumenti che andremo a utilizzare per esempio nella programmazione CAD CAM andremo a salvarci i nostri template, i nostri utensili e tutto quello che riguarda la programmazione CAM in maniera che se cambiamo postazione, io non mi trovo a lavorare qua ma vado in ufficio, sono a 30 km da casa comunque ho accesso a tutti gli strumenti che avevo a disposizione è una soluzione ideale perché è uno strumento completo per poter progettare multiambiente perché poi vedremo offre diverse possibilità oltre la progettazione CAM e l'utilizzo del CAD per progettare del CAM per andare a creare i nostri percorsi per muovere le macchine utensili effettivamente fa anche molto molto altro ed è sempre in fase di sviluppo, di implementazione innovativo perché appunto va a sfruttare sia nuove tecnologie sia anche il discorso di condivisioni dei file tramite cloud si appoggia appunto a questa nuova tendenza che troviamo nel mercato facile da usare perché comunque è un prodotto estremamente user friendly quindi una volta capito un pochino i meccanismi di come funziona diventa veramente veramente facile muoversi all'interno del prodotto allora gestione e consivisione dei file viene fatta in cloud quindi possiamo andare abbiamo detto creare dei nostri progetti e andare poi a decidere con chi andare a condividere questi progetti quindi possiamo andare a schiviare tutti i nostri file senza preoccuparci poi di fare effettivamente un backup noi manualmente perché comunque viene gestito tutto in cloud e viene tutto backupato regolarmente il Fusion 360 abbiamo detto comprende diversi ambienti fra cui la progettazione che prevede la modellazione solida parametrica superficie e mesh modellazione free form per velocizzare molto anche questo tipo di progettazione se dobbiamo fare design o cose del genere tramite lo strumento delle t-spline diventa molto molto rapido fare questo tipo di progettazione e la modellazione anche con tecnologie per la lamiera quindi progettazione che prevede poi la piegatura e la gestione del taglio prima della piegatura eccetera eccetera alcuni ambienti invece sono particolari e ci danno funzionalità aggiuntive fra cui il generative design, rendering, l'animazione, la simulazione classica analisi FEM che ci permette di analizzare i nostri prodotti dopo aver fatto la progettazione oppure avendolo importato dall'esterno ultimo ambiente ma uno dei più importanti è la produzione cioè l'ambiente CAM dove possiamo andare a generare i percorsi per la nostra macchina utensile e andare a fare tutte le nostre verifiche a livello di controllo collisioni, valutazione di tempi per eventuali preventivi eccetera eccetera si tratta di un nello specifico abbiamo detto nell'ambiente progettazione abbiamo diverse possibilità quindi la classica modellazione solida parametrica la freeform c'è la possibilità anche di andare a importare delle mesh con qualche strumento per fare un po' di reverse engineering ovviamente non è un prodotto studiato apposta per questo però se dobbiamo fare un lavoro di questo tipo comunque c'è la possibilità di importare e gestire le nostre mesh e estrarre un minimo di geometrie per andare a rimodellare il nostro prodotto la modellazione da superficie e anche il discorso della lamiera, la sheet metal che dicevamo un altro utilizzo che secondo me è fondamentale di Fusion è quello viene detto model to manufacturing ovvero l'utilizzo di Fusion 360 abbinato ad un altro software CAM che nel caso di Autodesk può essere PowerMill, può essere FeatureCam e quindi possiamo andare a utilizzare lo strumento di Fusion per andare a posizionare, gestire, importare anche fare un minimo di modellazione finché si parla di chiusura di fori, modifica di superficie e cose del genere estensione di superficie per andare ad ottimizzare il nostro modello e andare poi a importare tutto all'interno del nostro software CAM come vedi nel caso dell'immagine PowerMill e andare a creare i nostri percorsi con tutte le verifiche del caso quindi avendo importato tutti gli strumenti di staffaggio, vedi morse e anche attrezzature più complesse questo ci dà la possibilità di fare una verifica più realistica di quello che avverrà dopo in macchina e quindi individuare eventuali criticità. Questo anche ovviamente con staffaggi molto complessi, autocentranti eccetera quindi possiamo arrivare anche a caricare e gestire all'interno di Fusion un'attrezzatura molto complessa che ci è stata fatta per fare una produzione, posizionarla, spostarla, decidere come metterla e poi andarla a gestire all'interno del CAM per fare tutte le nostre verifiche. Un altro ambiente molto interessante è quello della progettazione generativa. Cos'è il generative design? Generative design non è altro che un processo basato su un'intelligenza artificiale che sfrutta il cloud per guidare l'innovazione esplorando migliaia di possibilità, ovvero noi andiamo a dare al nostro oggetto una serie di vincoli sia a livello di forze statiche che andiamo a applicare al nostro oggetto sia a livello di geometrie, quindi ingombri e accoppiamenti con altri organi meccanici. Fusion ci genererà dopo tutta una serie di possibilità in base a tutta una serie di informazioni che gli diamo. Fra queste informazioni ovviamente ci sarà il materiale con relativa resistenza ma anche la tecnologia con cui vogliamo ricavare quindi possiamo dirgli che la nostra geometria verrà ricavata in fresatura in due assi e mezzo quindi lui genererà una geometria molto semplice, senza sottosquadra oppure se gli diciamo che questo oggetto andremo a realizzarlo di stampa 3D con tecnologia additiva ci genererà un oggetto molto molto più complesso. Infatti il generative design è una nuova tecnica di progettazione in cui la fase di modellazione viene affidata interamente al software e all'intelligenza artificiale e dopo aver definito le opportune condizioni appunto lui genera queste geometrie. Il vero punto di forza del generative design è l'ottenimento di forme sia valide dal punto di vista meccanico che allo stesso tempo combinando le scelte di materiali e anche le tecniche di manifattura. Adesso se qualcuno di voi ha avuto occasione di passare a trovarci in fiera uno di questi esempi era proprio esposto che era il pedale realizzato dall'azienda SRAM che ha appunto utilizzato il generative design per andare a creare questa pedivella molto molto interessante il concetto e col design generativo la produzione additiva hanno offerto un nuovo vantaggio competitivo una pedivella della quale è risultata più resistente e più leggera del 20%. Abbiamo un rapido filmato che ci fa vedere Grazie Ecco qua, si è visto brevemente appunto questa applicazione questa applicazione appunto del generative design Un altro ambiente che ci permette di realizzare delle simulazioni fotografiche molto interessante all'interno di Fusion è l'ambiente rendering quindi nell'ambiente rendering possiamo andare creato il nostro prodotto o importato dei modelli all'interno di Fusion andare a fare la nostra simulazione fotografica appunto andando a segnare tutta una serie di materiali che abbiamo a disposizione all'interno del pacchetto oppure scaricandone degli altri o andando a modificarli possiamo appunto andare a creare le nostre immagini di simulazione fotografica di rendering all'interno di Fusion 360 Abbiamo anche l'ambiente di simulazione ambiente di simulazione in cui possiamo andare a fare le nostre analisi FEM quindi una volta creato il nostro oggetto e importato il nostro oggetto dati tutta una serie di informazioni possiamo andare a fare la nostra verifica del caso per andare a essere certi che il nostro oggetto è idoneo a supportare tutti i carichi e gli sforzi che dovrà andare a supportare l'ambiente disegno, la classica messa in tavola che comunque ci permette anche di andare a partendo dal 3D che abbiamo disegnato dall'assieme che abbiamo disegnato andare a realizzare le nostre tavole appunto per poter avere anche questo strumento di comunicazione con gli altri reparti con il reparto produttivo per esempio la soluzione CAM la soluzione CAM appunto è quella che dicevamo una delle più importanti infatti le extension che andremo a vedere oggi sono sono soprattutto quelle dedicate a questo particolare settore perché ci permettono di ampliare l'utilizzo di Fusion in questo specifico campo anche se le extension effettivamente le extension che possiamo acquistare riguardano anche gli altri ambienti adesso vedremo singolarmente cosa possiamo andare come possiamo andare a implementare il nostro prodotto quindi a livello di CAM del Confusion 360 andiamo a gestire le principali tecnologie CNC abbiamo al suo interno l'ambiente di fresatura in 2S e mezzo l'ambiente di fresatura 3D 3 più 2 quindi 5 assi posizionato e anche 5 assi in continuo dopo vedremo qualcosa taglio 2D quindi tutto quello che è taglio laser taglio acqua abbiamo una serie di strategie dedicate a quel tipo di percorso la tastatura quindi anche quella che viene definita OMV on machine verification è possibile andare a realizzarla tramite gli strumenti a disposizione all'interno dell'ambiente CAM di Fusion fresatura 4 assi tornitura 2 assi e ambiente tornio fresa per la generazione e la verifica appunto dei nostri percorsi anche per questo tipologia di macchine tornio fresa multitasking inoltre è dotato già di suo di una serie di soluzioni a livello di post processor quindi ci sono molti post processor standard da cui partire volendo si può anche interpellare Autodesk tramite il forum quindi c'è un forum molto molto frequentato anche da tecnici Autodesk se volete cimentarvi nella modifica di un post processor che comunque potete scaricare tranquillamente dall'archivio online di Autodesk se comunque avete necessità di un supporto o bisogno di acquistare un post processor certificato e gestito e perfettamente funzionante funzionante noi come NKE comunque come diceva Stefania offriamo anche la possibilità di personalizzarvi post processor e fare questo tipo di servizi quindi inoltre come soluzione CAM ecco un'altra cosa che non ho detto è dotato anche di strategie innovative vedi per esempio la sgrossatura di adaptive clearing quindi sia nell'ambiente 2D che nella fresatura 3D sfruttano il discorso della sgrossatura ad alta velocità quindi ci genera dei percorsi sicuri che ci permettono di andare a utilizzare le strategie di nuova generazione quindi quelle strategie dove non andiamo mai a sovraccaricare l'utensile oltre un certo limite abbiamo possibilità di lavorare anche 5 assi in continuo e i post processor l'avevamo già accennato e ora cominciamo a parlare di quelle che sono queste famose estensioni intanto andiamo a definire cosa sono le estensioni di Fusion 360 un'estensione non è attenzione non è un modulo aggiuntivo un plugin che noi andiamo ad attivare che ci permette di un software che andiamo ad aggiungere a Fusion 360 sono delle sono delle funzioni che vengono attivate e consentono di utilizzare appunto queste funzionalità di produzione avanzate per migliorare il workflow del nostro lavoro in base ovviamente alle nostre esigenze e della nostra azienda quindi andiamo ad attivare queste funzionalità che sono già incluse all'interno di Fusion per alcune di queste è disponibile comunque una prova gratuita quindi se noi non siamo sicuri che queste estensioni vanno a risolvere un problema o facilitarci il lavoro possiamo comunque per la maggior parte di queste funzionalità andare ad attivare la prova gratuita di 7 giorni che ci permettono di capire se effettivamente queste funzionalità aggiunte ci fanno per noi oppure no inoltre le extension di Fusion 360 hanno termini di pagamento molto flessibili che vanno dall'abbonamento mensile o annuale anche alla gestione tramite i crediti cloud addirittura per alcune di queste funzionalità se a noi servono non è la prima volta che succede il cliente può volendo attivare la funzione anche solo per un giorno tramite i crediti cloud per andare a creare il percorso particolare che gli è capitato e che gli serve per esempio mi viene in mente una lavorazione a 4 assi che è compresa appunto in questo pacchetto aggiuntivo e attivando questo tipo di strategia può creare il suo percorso verificare mettere il pezzo in macchina solo per un giorno in maniera da risolvere il problema momentaneo che ha avuto oppure se queste funzionalità vediamo che ci tornano utili quotidianamente si può pensare ovviamente di fare un abbonamento mensile o ancora meglio annuale che ci dà tutti i vantaggi economici nella gestione di questo tipo di abbonamento ovviamente per avere accesso a questo tipo di funzioni bisogna avere questo è scontato però un abbonamento a Fusion 360 per poterle attivare ecco le estensioni disponibili riguardano vari ambienti ci sono la build additiva dopo vedremo cosa si riferisce si riferisce comunque alla tecnologia additiva generative design di cui abbiamo parlato l'accesso al limitato perché il generative design comunque è un ambiente a cui noi accediamo anche con un abbonamento base ma dobbiamo andare a pagare tramite dei crediti la creazione del singolo progetto volendo possiamo anche se vediamo che lo utilizziamo spesso richiedere l'accesso il limitato quindi un abbonamento che diventa molto conveniente a livello economico rispetto appunto attivare questa funzione ogni volta che ci serve c'è un pacchetto aggiuntivo anche per la gestione dei file tutta una serie di opzioni aggiuntive per l'ambiente cam il nesting e la fabbricazione e la simulazione additiva un ambiente legato sempre alla build additiva che ci permette di fare delle verifiche in simulazione andare a correggere eventuali problemi che riscontriamo durante la programmazione appunto della stampante 3D o macchine similari diciamo allora la build additiva quindi detta Metal Additive Manufacturing ci permette di accedere alle funzionalità per la creazione e la gestione di file per le macchine di stampa 3D parliamo di stampa sia di materiale plastico ma anche stampanti di nuova generazione quindi ad esempio laser melting quindi stampanti anche per materiali metallici questo tipo di funzionalità ci permettono di selezionare la macchina che andremo a utilizzare disporre e orientare le parti su una piattaforma creare delle strutture di supporto dedicate e generare un file di costruzione in nativo quindi non un file esterno al software che dopo deve essere importato e tradotto nella gestione invece abbiamo una serie di funzionalità che riguardano la gestione dei file quindi numerazione di elementi univoci gestione di processi di rilascio e la gestione delle modifiche quindi possiamo andare a gestire i nostri progetti in maniera molto più tracciata e ordinata tramite queste funzionalità la simulazione additiva appunto dicevo prima fa riferimento all'ambiente di stampa 3D ed è una sorta di verifica anche a livello di raffreddamento e di deformazioni che ci permette di andare a correggere eventuali errori quindi la simulazione del processo additivo è l'analisi termomeccanica delle parti prodotte e in base ai risultati di questa analisi il software può compensare le geometrie eventualmente ecco il nesting e la fabbricazione ci permettono invece di ottimizzare il rendimento dei materiali con rilevamento automatico di materiale spessore quantità delle parti genera configurazioni percorsi utensili e codici NC direttamente da Fusion 360 come dicevamo nell'ambiente CAM possiamo gestire anche macchine tipo taglio laser o taglio taglio ad acqua e crea dei rapporti personalizzabili di nidificazione delle parti qua abbiamo un brevissimo filmato in cui si vede come comunque andando a gestire dei file delle parti generate o importate in Fusion possiamo tramite appunto la gestione del nesting dell'ambiente nesting riusciamo andare a generare il nidamento appunto il nesting in maniera automatica andando a definire ovviamente una serie di parametri quali saranno appunto il numero di elementi che vogliamo inserire nel nostro foglio la dimensione del foglio ovviamente e anche l'eventuale spazio e la strategia di di annidamento quindi principio con cui vogliamo andare a annidare una volta definito questi parametri lui andrà a generare appunto questi questo nesting che noi potremo eventualmente andare a modificare secondo le nostre necessità ed andare poi direttamente nell'ambiente cutting per andare a realizzare i nostri percorsi direttamente quindi per quanto riguarda invece l'ambiente CAD vero e proprio abbiamo detto ci consente di avere a disposizione tutta una serie di implementazioni che riguardano proprio la programmazione per le nostre macchine utensili adesso andremo a vederle singolarmente quindi abbiamo i controlli aggiuntivi per l'orientamento utensile cosa vuol dire già con il pacchetto normale abbiamo accesso alle lavorazioni in 3 più 2 quindi lavorazione in 5 assi posizionati con con il nostro manufacturing extension abbiamo la possibilità di andare a modificare l'asse utensile in maniera dinamica e avere tutta una serie di strumenti aggiuntivi per la gestione dell'asse utensile nelle lavorazioni in 3 più 2 strategie complesse aggiuntive quali la finitura la finitura delle finiture intelligenti quali la finitura rivido bassa pendenza o la finitura per rotazione quindi la classica finitura per macchine dove abbiamo a disposizione il quarto asse levita collisioni multiassi automatico le limine passate limita per corso utensile quindi creato un percorso senza dover creare dei limiti andare a cambiare possiamo andare a trimmare il nostro percorso o andare a selezionare delle passate eliminarle e abbiamo la possibilità anche di sostituire l'utensile senza ricalcolare il percorso quindi se ci accorgiamo che con un determinato utensile con un mandrino abbiamo delle collisioni possiamo andare a sostituire questo mandrino senza dover ricalcolare il percorso abbiamo poi accesso tramite le machine in extension anche all'ambiente ispezione quindi sia l'ispezione geometrica sfruttando i cicli di tastatura della macchina e andando poi a scatenare una reazione quindi se verifichiamo che il nostro pezzo risulta essere fuori tolleranza possiamo fermare la produzione oppure andare a rilanciare un altro ciclo che va a correggere l'errore rilevato o l'ispezione superficiale quindi fare l'on machine verification andare a fare tutta una serie di tastature anche di superfici complesse e per poi generare un report in cui vediamo il paragone rispetto alla superficie teorica e quindi tramite i classici bottoni vedere di quanto siamo fuori tolleranza o dentro tolleranza e eventuale scostamento a livello di ispezione geometrica cioè sfruttare il tastatore della nostra macchina il nostro running show per capirsi possiamo andare anche a prevedere l'allineamento della parte per poi generare un programma nc modificato in base all'allineamento rilevato della nostra parte l'ultimo ma non meno importante è il riconoscimento automatico dei fori quindi già all'interno di Fusion abbiamo un minimo di strumenti per andare a rilevare le forature che troviamo sui nostri solidi però le operazioni vanno gestite singolarmente quindi dovrò generare per fare un foro filettato un nostro centrino il nostro foro il nostro filetto il riconoscimento automatico dei fori ci permette sia di riconoscere automaticamente i fori sul modello ma anche di andare a selezionare una strategia per realizzare quel determinato foro strategia che posso anche personalizzarmi perfetto adesso andiamo a vedere qualcosina a livello pratico quindi andiamo a vedere per esempio se prendo un percorso di questo tipo una semplice finitura di offset 3d offset di scallop vado a modificare quello che è il contenimento il contorno della mia elaborazione quindi vado effettivamente a modificare quella che è la nostra boundary di contorno andando ad ottimizzare anche attivando il punto di contatto quindi vado a ricalcolare il mio percorso e vediamo che ho generato il mio percorso per lavorare le superfici che avevo praticamente selezionato ecco in questo caso possiamo vedere l'orientamento utensile possiamo modificare l'orientamento utensile per fare questo abbiamo sia uno strumento diciamo manuale quindi vado a inclinare io manualmente gli assi andando a riportare questa inclinazione comunque all'interno della mia tabella e posso anche andare a correggere questo valore in questa maniera ho trasformato la mia lavorazione da lavorazione 3D semplice a lavorazione in 3 più 2 adesso dovrei gestire in maniera corretta le altezze e gli svincoli ovviamente però se andiamo a vedere abbiamo la nostra lavorazione con l'utensile inclinato perfetto un'altra maniera di andare a inclinare il nostro utensile è quello di di usare l'allineamento alla vista sistema molto molto manuale però ci permette proprio di dire ok io lungo questa vista riesco a evitare tutti i sottosquadra riesco a evitare tutte le collisioni lancio il mio percorso in questa maniera e riesco a ottenere il mio percorso con l'inclinazione secondo la quello che gli ho chiesto vedete che si è aggiunto un'inclinazione perché si è inclinato l'asseo tensile lungo la vista che avevo impostato perfetto un altro strumento può essere anche quello di usare la normale di una superficie quindi andando selezionare normale alla superficie mantenendo magari anche fisso un asse x o y riesco a inclinare appunto questo utensile un'altra cosa che fa parte dell'extension per quanto riguarda l'ambiente cam era la generazione di un percorso intelligente di ripido e di bassa pendenza cosa vuol dire con questa strategia riusciamo a ottenere una buona finitura però effettivamente le pareti verticali sono un po' a rischio perché ho l'utensile che tende ad affondare se io vado a generare un percorso simile ma usando il percorso di ripido e bassa pendenza lui cosa fa in maniera intelligente genererà le due strategie quindi la semplice profilatura che è ottima per le pareti verticali e una strategia invece migliore per le pareti di ripido di bassa pendenza andando però a trimarle in automatico si arrangia lui quindi alla fine del calcolo del mio percorso si può notare che dove la pendenza diventa bassa quindi arriviamo quasi sui piani lui mi fa una generazione mi genera un percorso sempre di offset 3d come quello che ho visto precedentemente la classica scallop mentre per le pareti verticali ha cambiato strategia ha cominciato a lavorare creando appunto dei percorsi in profilatura perfetto altra opzione in aggiunta tramite le nostre extension sono la possibilità di andare a modificare il percorso in maniera dinamica sia a livello di taglio tramite un box vedete che posso andare a generare un poligono sulla vista in cui mi trovo e posso decidere se andare a salvare l'interno o l'esterno della mia boundary o addirittura entrambe se volessi separare il percorso fatto questo praticamente mi trovo il mio percorso uguale identico come l'avevo definito prima stessi parametri stesso tutto però con appunto con realizzato questo taglio secondo il poligono che ho utilizzato la cosa interessante di questo tipo di modifica qual è che se vedete a fianco del nome del percorso c'è una matita perché lui memorizza comunque la memorizza come modifica e se ho sbagliato qualcosa comunque posso andare ad eliminare questa modifica oppure andare a modificarla abbiamo possibilità anche di cancellare proprio delle parti di percorso sia selezionando la passata ma anche dei segmenti come li chiama lui quindi tramite un box posso andare a selezionare dei segmenti del mio percorso per segmenti ovviamente cosa si intende? si intenderà i singoli punti del percorso che verranno rimossi andando poi ovviamente ad adattare a spostare i vari ingressi all'interno del nostro del nostro del nostro percorso a questo punto se andiamo a vedere il nostro percorso è stato ricalcolato e sono state eliminate esattamente le passate che avevo selezionato perfetto un'altra opzione che troviamo all'interno di questa strategia per ora è applicata solo questa strategia non è ancora stata portata nelle altre strategie anche se qualcosa si può fare comunque in multi assi ma in questa strategia specifica è stato è stato inserito anche tutte le opzioni per gestire la lavorazione cinque assi quindi vado a selezionare un utensile più piccolo e quindi più basso con il quale probabilmente rischio una collisione e vado a mettere anche un limite a livello di pendenza voglio lavorare solo il piano il fondo della mia della mia tasca della mia area se vado a realizzare questo tipo di percorso ovviamente mi troverò una collisione quando mi avvicino allo spigolo infatti avendo l'utensile essendo l'utensile piccolo dovrei cercare di inclinare l'utensile però l'inclinazione dell'utensile ovviamente come avevo fatto prima in 3 più 2 dovrei generare almeno 3 percorsi per trovare 3 inclinazioni e poter lavorare tutte le zone evitando la collisione adesso vediamo che se andiamo a simulare appunto il nostro percorso tende comunque a a collidere andiamo a vedere la simulazione la riportiamo indietro ecco qua a parte due passatine che erano là eccolo qua andiamo a vedere ovviamente abbiamo una collisione molto evidente quindi per evitare questa collisione potrei o gestire manualmente io l'asse utensile quindi dirgli di inclinarlo in qualche maniera sfruttando un elemento geometrico per esempio una linea oppure posso usare l'opzione posso usare l'opzione l'opzione prevenzione collisioni quindi in automatico lui andrà ad evitare la collisione del mio percorso inclinando ovviamente l'asse utensile andiamo a ricalcolare appunto il nostro percorso con questa opzione e andremo a vedere appunto che l'asse risulta inclinato quando arriva appunto a collidere quindi avviamo la simulazione eccolo qua è evidente che quando arriva a rischio collisione lui automaticamente va a inclinare l'asse utensile per evitare questa collisione in maniera automatica perfetto stessa cosa farà dall'altra parte quando rischierà la collisione eccolo qua perfetto e quindi queste sono un po' le funzionalità che ci dà a disposizione appunto con queste manufacturing extension un'altra opzione che possiamo andare a utilizzare è appunto la lavorazione a lavorazione a quattro assi quindi la classica strumento che possiamo sfruttare anche ad esempio su un tornio fresa se andiamo a fare le nostre le nostre torniture la parte dopo che deve essere realizzata di fresatura soprattutto se è su tutti i 360 gradi ma anche solo una porzione angolare possiamo andare a gestirla appunto tramite questo tipo di lavorazione come possiamo vedere andiamo a simulare tutte le nostre tutti i nostri percorsi di tornitura le prime fresature ecco che nella finitura per rotazione andiamo a realizzare la nostra rotazione dell'utensile intorno all'oggetto ovvio che noi vediamo l'utensile che ruota in realtà la nostra macchina sarà la seccia a ruotare perfetto quindi un'altra opzione appunto di cui avevamo accennato prima è tutto l'ambiente che riguarda la tastatura tastatura intesa sia come come utilizzo dei cicli di tastatura della nostra macchina quindi sia per fare il centraggio prima di iniziare prima di lanciare il nostro programma quindi per trovare l'origine sia come verifica durante la programmazione eseguo una lavorazione per una sede cuscinetto prima di procedere vado a tastare per verificare che la misura sia corretta vedete con un semplice click della superficie riesco a generare automaticamente questa tipologia di percorsi se aggiungo un'altra superficie per sbaglio lui comunque mi annulla tutto perché appunto lo fa in maniera intelligente e quando ha delle superfici che gli permettono di gestire questo tipo di cicli genera il percorso altrimenti no dopodiché posso anche andare a qua per esempio posso anche andare a toccare un piano e se è necessario andare a spostare a scegliere il punto dove andare a rilevare questa misura se andiamo a vedere la simulazione appunto dopo riesco a simulare anche i movimenti ovviamente tutto questo dopo verrà tradotto utilizzando i cicli di tastatura della nostra macchina ok e andiamo a tastare la parte superiore ovviamente dopo aver fatto la tastatura dicevamo posso andare a scatenare una determinata reazione che può essere la dimensione errata quindi arresta e visualizza un messaggio fuori posizione quindi in questo caso gli dico di fermarsi e di arrestare oppure aggiornare l'usura utensile quindi per i controlli che me lo permettono posso andare a generare una riga che mi correggerà il mio percorso se prendiamo il pezzo che stavamo vedendo prima qua siamo in presenza di superfici complesse possiamo prevedere anche la tastatura delle superfici ovviamente in questo caso non è una misura che noi rileviamo e ci permette di dare una condizione sì o no fermati o continua ma semplicemente andremo a generare un report tramite un file che la nostra macchina genererà in risposta al programma che andiamo a eseguire e questo file e questo file caricandolo su fusion 360 ci darà poi la possibilità di andare a generare un report perfetto se andiamo a fare la nostra simulazione si può vedere come in maniera intelligente il percorso viene generato ovviamente non a 5 assi in continuo ma in 3 assi però il punto di contatto viene generato normale alla superficie giustamente per rilevare esattamente il punto tutto questo dicevamo dopo sarà tradotto in un report anche a livello grafico con i classici bottoni grafici che ci danno l'idea dello scostamento che andiamo a rilevare appunto all'interno della nostra macchina perfetto ultima cosa che andiamo a vedere è scusate questo era il file di prima la rilevazione dei fori come dicevo all'interno dell'extension è contenuta anche la funzionalità che si chiama rilevazione automatica dei fori se andiamo a vedere noi la foratura possiamo generarla tranquillamente anche sfruttando la foratura semplice possiamo andare a selezionare la nostra superficie scegliere manualmente l'utensile se l'utensile non è corretto dovrò andare a cambiarlo è affidata a me la scelta dell'utensile dopodiché lui andrà a generarmi in base al ciclo che ho scelto la foratura all'interno invece dell'ambiente riconoscimento fori cosa succede lui fa un'analisi dei fori mi rileva i cilindri vedete che mi rileva sia il cilindro grande che quelli piccoli io vado a ignorare quello che non mi interessa gli dico di tenere conto e in più se gli dico di non ignorarli posso scegliere una strategia che mi sono preparato in precedenza lui ne ha alcune di standard però io volendo vado a selezionarlo posso selezionare anche il tipo di filetto ovviamente in base a tutta una serie di cicli che mi sarò preparato e se andiamo a vedere lui mi genera poi automaticamente il ciclo completo quindi mi fa tutti i centrini tutte le forature tutte le maschiature in questo caso la maschiatura è rimasta in errore perché il percorso utensili richiede la selezione dell'utensile cosa vuol dire io gli utensili non li ho selezionati ma gli ho dato a disposizione un magazzino che aveva un certo numero di utensili probabilmente questo magazzino non era compreso un maschio con le misure richieste quindi lui mi segnala l'errore io devo preoccuparmi di andare a importare all'interno di quel magazzino del progetto il mio maschio vado a cercarlo qua non ce l'abbiamo eccolo qua seleziono perfetto a questo punto l'errore si è risolto e sono in grado di andare a fare la mia simulazione quindi in automatico senza dover creare tre fasi distinte io ma le ha create lui in automatico in base al riconoscimento dei fori che gli ho detto di fare mi crea il percorso di centrinatura foratura e e maschiatura perfetto la cosa interessante di questo tipo di di riconoscimento è che posso anche gestirlo in multiassi quindi prima cosa ovviamente prima non ve l'ho fatto vedere devo scegliere la libreria utensili da utilizzare e in più posso scegliere se riconoscere i fori solo lungo l'asse oppure se riconoscerle anche in multiassi in questo caso andrà a generarmi un percorso anche con il movimento del quarto e quinto asse per riuscire a trovare la posizione corretta dei fori quindi immaginate voi di avere una sfera con cento fori andare a generarli manualmente uno a uno diventa abbastanza complesso in questo caso posso appoggiarmi a questo tipo di funzionalità che mi fa risparmiare molto molto tempo e se vado a vedere lui dopo va ad ottimizzare tutto il processo per la realizzazione di queste forature perfetto io direi il tempo è quasi scaduto volendo fare un po' di riassunto ok scusate perché andare a scegliere Fusion e l'extension abbiamo comunque un software multi ambiente che ci offre molte possibilità per la per la gestione delle varie problematiche che possiamo trovare sia nella progettazione che nella programmazione CAM condivisione dei progetti quindi soprattutto se siamo un ufficio tecnico oppure abbiamo dei colleghi dei clienti dei clienti che utilizzano a loro volta Fusion una condivisione molto intelligente e rapida dei vari progetti la possibilità di implementazione che abbiamo visto oggi importantissima perché effettivamente ci offre delle funzionalità che ci permettono di incrementare notevolmente le possibilità che abbiamo di programmazione e velocizzare appunto la nostra programmazione e comunque avere delle soluzioni innovative ad un costo che effettivamente è alla portata di tutti perché paragonato ad altri prodotti con caratteristiche simili effettivamente Fusion è un prodotto molto molto appetibile da quel punto di vista bene se se c'è eventualmente qualche domanda possiamo